Dai minimi l'S&P 500 e il Nasdaq hanno fatto tra il 7% e l'8% E molti si stanno chiedendo se questo possa essere effettivamente un segnale Della fine di questo crollo e che quindi possa segnare l'inizio della ripresa Io chiaramente non prevedo il futuro e non ho la risposta Ma c'è un indicatore tra quelli che utilizzo Che negli ultimi 30 anni è suonato solo 3 volte Quando? Beh, quando eravamo vicinissimi alla fine di un calo di borsa Quindi oggi vi voglio spiegare perché a livello tecnico e a livello fondamentale Potremmo essere vicini al fondo e se quindi possa avere senso investire oggi Ciao a tutti ragazzi, sono Pietro e bentornati in questo nuovo video Ah, se solo si potesse sapere in anticipo quando i mercati cambieranno direzione Saremmo probabilmente milionari nell'arco di una settimana Questo lo dico perché nessuno, nessuno può mai essere certo Di che cosa succederà in futuro sui mercati E non pensate erroneamente che siccome io sono preparato nel mondo finanziario Ho le certezze Non prevedo il futuro, quindi nulla di tutto ciò Quello che possiamo fare però da persone ragionevoli È analizzare la situazione, capire come funzionano i mercati Quali sono le dinamiche che governano i mercati E sulla base di questo ipotizzare quale possa essere lo scenario più probabile Io ho cercato di mettere insieme tutti questi dati E anche un indicatore molto interessante che vedrete tra poco Per capire che cosa è ragionevole aspettarsi Ma veniamo a noi Prima di analizzare la situazione sui mercati È bene ricordare una cosa Sia ai più esperti che però periodicamente se la dimenticano Sia anche a chi magari è entrato in questo mondo della finanza da poco I mercati si basano sulle aspettative Mi conoscete, mi piace usare delle metafore Quindi facciamo un bel esempio Andare al cinema Esce il nuovo film della Marvel E voi, forte delle esperienze passate Con i loro film Andate al cinema con determinate aspettative Quindi non state andando a vedere un film in modo neutrale Vi state già aspettando che il film vi possa piacere Ecco che allora ci sono tre possibilità Scenario numero uno Aspettative soddisfatte In questo caso sarete ok Anzi magari moderatamente felici Perché il film è effettivamente come vi aspettavate Quindi decente, bello, ok Nulla di più In futuro poi continuerete probabilmente ad avere aspettative simili Visto che queste sono state soddisfatte Scenario numero due Aspettative ampiamente soddisfatte Il film non solo è come ve lo aspettavate Ma è molto meglio E quindi uscite dalla sala contentissimi Contentissimi e anche stupiti Proprio perché non vi immaginavate una cosa del genere E questo farà sì che anche in futuro Vi aspetterete dei film un po' migliori Di quanto avete fatto fino adesso In altre parole alzerete l'asticella Scenario tre Aspettative per niente soddisfatte Immaginiamo che il film in questione sia Thor Ragnarok Giusto per dire E quindi non vi aspettavate un film così terribile Probabilmente non solo uscirete dalla sala scontenti Ma d'ora in poi vi aspetterete anche peggio Dai film della Marvel E quello che vi ho appena detto È ispirato ad una storia vera Eh già Bene adesso andiamo finalmente ai mercati E sono sicuro che con questa premessa Sarete in grado da soli di unire i puntini In questo momento i mercati Che cosa si aspettano dal futuro? Numero uno Inflazione In questo momento i mercati vengono da mesi di inflazione Molto alta Tra il 6 e l'8% E dal momento in cui viviamo in un periodo di inflazione così alta Le aspettative per il futuro sono di un'inflazione altrettanto alta Giusto per capirci Uno dei fattori che più influenza l'inflazione sia a livello pratico sia di percezione È il prezzo del petrolio Ma non lo dico io Non è una mia teoria Ci basta vedere questo grafico Nel grafico che vedete avete il prezzo del petrolio E le aspettative di inflazione negli Stati Uniti per i prossimi 5 anni Si vede anche a occhio nudo come nel tempo più il prezzo del petrolio saliva E più l'inflazione attesa aumentava Ma se vogliamo più conferme possiamo anche tracciare una regressione tra i dati Otteniamo un R quadro di 0,54 Non è uno ma comunque indubbiamente le due cose sono correlate Ora bisogna chiedersi con le attuali aspettative di inflazione molto alta Con il prezzo del petrolio ai massimi Cosa è più probabile che succeda? In questo momento infatti i mercati stanno scontando delle aspettative di inflazione molto alte E quello a cui potremmo assistere si chiama effetto base L'effetto base non è altro che l'effetto che si ottiene cambiando il valore di partenza quando si fa un confronto Nell'ultimo anno i prezzi sono aumentati dell'8% Se prima erano 100, giusto per dire, facciamo che ora si hanno 108 Per avere nuovamente un'inflazione all'8% i prezzi non basta che rimangano a 108, 109 Ma devono passare a 116, 117 Questo perché il valore è aumentato Quindi nel 2023 tra un anno faremo il confronto con un valore di partenza già molto alto E l'effetto base potrebbe far sì che nei prossimi mesi l'inflazione cali E cali anche di molto Già abbiamo visto per esempio ad aprile il primo calo di inflazione Non è un gran calo ma è il primo calo di inflazione da agosto 2021 Non si vedeva da un bel po' Quindi tanto per cominciare è possibile che in questo momento Gli investitori si stiano aspettando un'inflazione più alta di quella che effettivamente andrà a verificarsi Punto numero 2 del video di oggi Recessione Il dato preliminare quindi ancora non definitivo del PIL statunitense mostra che nel primo trimestre il PIL degli Stati Uniti potrebbe calare di circa l'1,5% E sappiamo bene che cosa succede quando per due trimestri consecutivi il PIL scende In quel caso si può parlare a tutti gli effetti di recessione E ora vedo già tantissime persone che urlano alla peggior recessione della storia Non abbiamo mai visto niente di simile cose del genere Salvi chi può Apocalisse zombie Andiamo tutti a vivere in campagna a fare l'orto E va bene, ok Però nella storia è successo che ci fosse per X motivi anche solamente un trimestre di PIL negativo Senza che poi succedesse nulla Nel secondo trimestre del 2014 per esempio il PIL era sceso del 2,9% Ma poi non è che sia successo nulla di che soprattutto sui mercati Insomma mi sembra che in questo momento si stia già scontando una recessione certa E anche una di quelle piuttosto gravi In più guardiamo l'S&P 500 che non è proprio come l'economia americana ma è una rappresentazione dei mercati americani Secondo le stime degli analisti, gli utili delle aziende contenute nell'S&P 500 cresceranno nel secondo trimestre del 2022 del 4,1% Ma secondo i calcoli che ho fatto potrebbero crescere in realtà molto di più Ho preso le prime 41 aziende dell'S&P 500 che contano per il 50% dell'S&P 500 Si può fare strano che le prime 41 valgano la metà di 500 ma l'S&P 500 è calcolato in modo strano E sono andato a vedere le aspettative dell'azienda di ognuna di queste 41 aziende Il 60% di queste aziende per il trimestre che deve arrivare si aspetta utili positivi Quindi in rialzo, spinti molto dagli energetici Giusto per capirci, Chevron e Exxon si aspettano crescite a tre cifre E per forza, il petrolio è carissimo Insomma credo che in questo momento gli analisti ci stiano andando un po' pesante a deprimere le aspettative Solo il 4% mi sembra un po' poco E quindi cosa potrebbe succedere se gli utili si rivelassero più alti di quelli attesi? Beh, probabilmente i mercati andrebbero a salire Punto numero 3, arriviamo finalmente alla cosa di cui volevo parlarvi E dell'indicatore, la paura Abbiamo recentemente toccato uno dei livelli di paura e di preoccupazioni sui mercati Che non si vedevano da un botto di tempo Anzi, più precisamente dal 2008 Ma come si calcola la paura? È molto semplice e in realtà l'ho fatto anche io con la mia community Con voi su Instagram in questo sondaggio In questo sondaggio vi chiedevo Ehi, tra 6 mesi i mercati saranno in rialzo, neutrali, quindi più o meno dove sono adesso O in ribasso? I risultati sono stati questi Direi che siete tutti abbastanza neutrali Non siete né particolarmente rialzisti né ribassisti Il mio dato però è solo su qualche migliaia di persone che risponde ai sondaggi delle mie storie Se solo ci fosse un'azienda che fa questo sondaggio in modo metodico, regolare E con un bacino d'utenza un po' più ampio Aspetta, ma c'è Sto parlando della American Association of Individual Investors Che ogni settimana fa esattamente la stessa domanda che ho fatto io in questo sondaggio A decine di migliaia di investitori Per la settimana di riferimento il loro risultato non è poi così diverso dal mio Leggermente tendente al ribasso, ma nulla di che Il dato più interessante però non è questo Ma è la differenza tra gli investitori rialzisti e quelli ribassisti Uno spread, una differenza Nel nostro caso, per esempio, nella nostra community Il valore è 35% meno 34% uguale 1% Maggiore è questo valore, maggiore è la percentuale di investitori rialzisti Minore è questo valore, addirittura in negativo E più gli investitori sono ribassisti Ed ecco, quindi ho preso tutti i dati dell'American Association E ho tracciato questo valore nel tempo E li ho messo in un grafico È abbastanza confuso, lo so, ma adesso andiamo a dargli un senso Tanto per cominciare vediamo che solo tre volte nella storia Gli investitori sono stati così tanto ribassisti Con uno spread almeno 40% E cosa è successo queste tre volte negli ultimi 30 anni? Molto semplice che questo segnale si è trovato in corrispondenza Nell'ordine di settimane, massimo uno o due mesi Ad un fondo di mercato, ad una fine di un crollo Nel 1990, quando i mercati calavano Questo indicatore ha anticipato di circa, poco meno di due mesi, il fondo Nel 2008, qui è impressionante, l'indicatore era in prossimità del fondo L'ha addirittura anticipato di due giorni E il 28 aprile 2022 ecco che di nuovo suona questo indicatore Segnalando quindi, se guardiamo al passato, che siamo di nuovo vicini ad un fondo di mercato Ipotizzando di esserci lasciato alle spalle l'ultimo minimo che vedete sul grafico Questo indicatore avrebbe anticipato la fine del crollo di 22 giorni Non possiamo sapere se questo indicatore è attendibile Perché abbiamo solo altre due volte negli ultimi 30 anni in cui si è verificato E inoltre è bene dirlo Nel 2000 e nel 2020 questo indicatore non è riuscito a prevedere la fine di un crollo Però, indubbiamente, le volte in cui è successo Questo indicatore segnalava una paura estrema Che è quella che mi sembra di percepire in questo periodo D'altronde lo capisco, le preoccupazioni sono tanti L'inflazione non era così alta da tempo E quindi ci sta che la maggior parte degli investitori ceda al panico Io non lo so, ovviamente, se abbiamo toccato il fondo Se il minimo che abbiamo visto qualche settimana fa è effettivamente il minimo che vedremo E d'ora in poi sarà solo un rialzo Questo nessuno lo può sapere Certo che però tutte queste cose che metto insieme Mi fanno pensare che le aspettative per il futuro in questo momento Siano molto peggiori di quello che in modo plausibile possiamo aspettarci E che quindi quando queste aspettative verranno smentite Allora potrebbe esserci una ripresa Questo potrebbe non avvenire anche prima della fine dell'estate Quindi per quanto mi riguarda non c'è assolutamente fretta Soprattutto per me che investo nel lungo periodo Cercare di fare market timing e prendere l'esatto momento in cui i mercati si invertono Non ha nessun senso per me Però volevo comunque condividere questi spunti di riflessione con voi Per capire un po' come percepire i mercati in questo momento E anche come posizionarsi nel lungo periodo Ragazzi fatemi sapere invece la vostra Cosa ne pensate E mi raccomando Se volete partecipare a sondaggi come quello che abbiamo fatto Seguitemi su Instagram Vi lascio qua il nome Mi raccomando attenzione a tutti i fake che mi clonano l'account Per proporvi crypto scammine o cose del genere E inoltre iscrivetevi se non volete perdervi altri video come questo Per oggi è tutto Vi saluto e alla prossima E inoltre iscrivetevi al canale